idrobaskers declama l'arte bussa alle porte c'altro dire idrobaskers festival seconda edizione tra la magia del lago due punti le vie del paese si trasformano in un palcoscenico di bellezza e divertimento musica danza teatro giocoleria cabaret alberi che rotolano e volano sabato 9 luglio 2016 dalle ore 17 sino mezzanotte ad idro brescia per partecipare come artista o nello staff del festival vai su www.idrobaskersfest.it oppure scrivi a idrobaskersfest chiocciola gmail.com o alla pagina fb that's all folks